Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radioattiva Plus con un nuovo episodio di StartMap. Oggi abbiamo con noi Yolanda Nocera di Micuro SRL, CEO di Medical Box, un progetto che aggrega un network di strutture sanitarie private per la vendita di prestazioni in diversi canali. Benvenuta. Grazie. Medical Box è la prima piattaforma online in Italia in ottica insurtech che permette di acquistare visite specialistiche ed esami diagnostici in altre 46 città italiane a tariffe esclusive. Entriamo nel vivo della puntata con una domanda diretta. Come nasce l'idea di Medical Box e come si è sviluppata nel tempo? Allora l'idea di Medical Box nasce nel 2014 a Parma da me Francesco Ruffolo da un'esigenza familiare. Abbiamo pensato di dare la possibilità di prenotare facilmente visite mediche specialistiche ed esami diagnostici presso appunto un network di strutture sanitarie private che nel tempo abbiamo affiliato in tutta Italia. Nel 2020 insieme a Maps Group, una società specializzata nella progettazione e sviluppo di processi innovativi, è nata Micuro SRL, questa startup che appunto ha fatto evolvere il progetto Medical Box verso il mondo insurtech.